Cioè qualsiasi cosa io conosca esiste, ciò che non conosco non esiste, finché non lo conosco. Wow, che figata, che strana la frase, l'Italia va figata, fa ridere. Comunque è molto più comodo mangiare con le palle, in realtà tutto è più comodo con le palle, pensi che scomodo sarebbe masturbarsi con forchetta e coltello, le palle sono molto meglio. Perché gli adulti si masturbano le palle vicende, una roba da zii tipo, eh vecchio martione? E perché si deve masturbare le palle, cos'è? Per scaricare della sexual tension? Il bene alla palle nell'uovo, nell'uovo non c'è il bene alla palle, magari c'è una piuma, non c'è un bene alla palle, sarebbe strano. Non ho mai cagato da una scala, dovrei provare a cagare da una scala, Dio scala. Non riesco a non pensare, poi quando mi dico di non sconoprire penso a non sconoprire, sarebbe fighissimo iniziare a fare un movimento di salvaguardia della figa. Cioè tipo liberiamo la figa dagli animali e dalla natura, tutti qui a demonizzare la figa, ma poveretta magari è la figa. E' essere intrappolata negli animali. Non l'abbiamo pensata così. Noi dovremmo voler bene alla figa, perché proteggerla, nel senso è nostra figlia, no? Abbandoneresti un figlio? Giustamente dovremmo riportare la figa nelle città. Deve tornare a casa nostra, sulle nostre tavole. Farebbe, farebbe ridere, vedere una scena di una, di uno che corre verso una foca intrappolata nella figa. Decapita la foca e libera la figa nel mare. Dio, cane. Dio. Dovrei brevettare un cartone della pizza facile da buttare. Nel senso, un cartone della pizza che si possa fare, perché che fatica ogni volta che devi spiegare il cartone della pizza. Dio. 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 Dio.